Nella comunità parrocchiale di Pozzillo, frazione marinara di Acireale, è stato consegnato il mandato missionario a Giussi Russo, un giovane medico della parrocchia che ha scelto di fare un'esperienza in Angola. Il mandato le è stato affidato da Don Orazio Sciacca, direttore dell'ufficio missionario diocesano, da Don Giuseppe Pavone e dal parroco Don Andrea Grasso, che ha raccomandato la ragazza alla patrona Santa Margherita, donandole una spilla e il Santo Rosario. Un'opportunità straordinaria, ha dichiarato Don Orazio, per contribuire allo sviluppo delle comunità locali e crescere personalmente. Giussi Russo, già volontaria di Croce Rossa italiana nei comitati di Acireale e Udine, andrà in Angola all'inizio di marzo con il progetto Junior Project Officer di Medici con l'Africa, collegio universitario aspiranti medici missionari, all'interno di un programma di cooperazione sanitaria internazionale. Lavorerà su progetti di sanità pubblica a sostegno della salute materno-infantile. Il mio amore per l'Africa, ha dichiarato la dottoressa Russo, è nato quando ero ancora una bambina. Durante gli studi in medicina sono stata sul punto di partire, ma per un colpo di stato prima e per un'epidemia di ebola dopo, non mi è stato possibile partecipare alla missione in Guinea-Bissau, l'Africa però mi è rimasta sempre nel cuore.